Novità per il conferimento dei rifiuti a Pescara. Si punta a migliorare qualitativamente la raccolta differenziata anche in termini di costi. Dal 5 dicembre prossimo verranno a posti progressivamente nuovi cassonetti per il conferimento esclusivo del vetro. E novità ci saranno anche per gli orari che fino ad oggi erano consentiti per il conferimento. Ci saranno dei cassonetti di colore viola che sono dedicati alla raccolta del vetro. Noi oggi raccogliamo sostanzialmente vetro, plastica e metallo tutto assieme. Conferiamo il tutto a una piattaforma che poi distingue, separa il tutto. Naturalmente questo per noi oggi è un costo notevole perché il vetro è l'argomento, l'elemento più pesante di questa raccolta. E noi con la differenzazione tendiamo a raccogliere soltanto vetro e naturalmente diminuire i costi della cernita. E in un secondo tempo ci proponiamo di vendere il vetro e quindi utilizzare questo rifiuto tra virgolette come una risorsa. Liberalizzeremo l'orario di conferimento dei rifiuti secchi, quindi plastica, vetro e metallo verranno conferiti, potranno essere conferiti dai cittadini in qualunque momento. Restano i limiti temporali per il conferimento di quello che è l'umido, la frazione organica, l'indifferenziato che ovviamente per motivi igienici e di decoro va assolutamente conferito negli orari indicati sui cassonetti.